Ciao, se stai guardando questo video probabilmente ti interessa il settore dell'europrogettazione dei programmi comunitari o più semplicemente quello della formazione e dei progetti educativi in generale. Io mi chiamo Fabrizio Regneri e da ormai oltre 15 anni opero professionalmente nel campo dei progetti europei, in particolar modo progetti di mobilità internazionale promossi principalmente tramite il programma Erasmus+. Tutti hanno sentito parlare di Erasmus ma ben pochi sanno delle numerose azioni ed opportunità che il programma contiene rivolte ad un vastissimo target di beneficiari. Con la nuova programmazione 2021-2027 infatti l'Europa decide di investire ancora di più sul programma Erasmus portandola ad una dotazione di bilancio complessiva di ben 26,4 miliardi di euro. Questo significa che non c'è stato un periodo storico migliore nell'arco dei 30 anni di vita del programma per iniziare ad operare professionalmente in questo settore. Negli ultimi anni ho fondato organizzazioni in diversi paesi europei che operano proprio nell'ambito della gestione dei progetti di mobilità internazionale. Ho sviluppato un know-how specifico in questo settore e ti posso garantire che oltre ad essere una carriera altamente gratificante da pagante offre anche delle ottime opportunità di business e di guadagno. Ho appena terminato la realizzazione di un corso completamente gratuito che se lo vorrai ti permetterà di fare i primi passi in questo settore. Se vuoi diventare un project manager di progetti europei e magari lanciare la tua startup oppure se hai già un'organizzazione operante nel settore educativo e formativo e vuoi espandere il tuo raggio di attività ai progetti europei non esitare clicca subito sul link che trovi in basso a questo video iscriviti e riceverai subito via email l'accesso al corso dell'Accademia della Mobilità Europea. Non perdere questa fantastica opportunità. Grazie ed a presto.